parte seconda capitolo 1 yonville abbe così chiamata per via di un'antica abbazia di cappuccini le cui rovine non esistevano neanche più è un borgo situato a otto leghe da rouen fra la strada di abbeville e quella di bovè in fondo a una valle bagnata dal riole un fiumiciatolo che si getta nell'andelle dopo aver fatto girare le ruote di tre mulini poco prima del suo sbocco e nelle cui acque vive qualche trota che la domenica i ragazzi si divertono a pescare con le canne si lascia la strada maestra alla boissier e si procede in pianura fino alla sommità della salita di le dalla quale si domina tutta la vallata il fiume che la traversa da origine a due regioni dalla diversa fisionomia a sinistra prati e pascoli a destra terreni coltivati i prati si stendono ai piedi di un semicerchio di basse colline per poi congiungersi ai pascoli della regione di bre mentre verso est la pianura sale dolcemente e allargandosi dispiega a perdita d'occhio i biondi campi di grano l'acqua che scorre in mezzo all'erba divide con una riga bianca il colore dei prati da quello dei solchi e far assomigliare la campagna a un grande mantello spiegato con il collo di velluto orlato da un gallone d'argento quando si arriva all'estremo orizzonte si profilano le querce della foresta di argueil contro i dirupi del colle san jean segnato dall'alto in basso da strisce rosse irregolari create dall'acqua piovana i toni color mattone che risaltano in linee sottili sul grigiore della montagna sono dovuti al gran numero di sorgenti ferruginose che scorrono nella regione circostante ci troviamo sui confini della normandia della picardia e dell'île de france in una regione ibrida ove la parlata è senza accento com'è senza caratteristiche il paesaggio qui si producono i peggiori formaggi di tutta la zona di neuf chatel qui le culture sono dispendiose in quanto si rende necessaria una gran quantità di concime per rendere fertili queste terre friabili piene di sabbia e di pietre fino al 1835 non esisteva alcuna strada carrozzabile per arrivare a yonville ma verso quest'epoca venne costruita una strada vicinale che congiunge la via maestra di abbeville con quella di amiens e viene percorsa talvolta dai carrettieri i quali da rouen vanno nelle fiandre ciò nonostante yonville abbe rimane stazionaria a dispetto dei nuovi sbocchi invece di migliorare le culture la gente del luogo si ostina a produrre foraggi per quanto siano disprezzati e la pigra borgata ha continuato a espandersi con un processo naturale evitando la pianura verso il fiume la si lontano adagiata lungo la riva come un vaccaro che faccia la siesta vicino all'acqua ai piedi del colle dopo il ponte comincia un argine fiancheggiato da giovani pioppi che conduce in linea retta fino alle prime case del paese queste ultime sono circondate da siepi in mezzo a cortili in cui sorgono varie costruzioni frantoi rimesse o distillerie disseminate sotto alberi fronzuti ai cui rami sono appesi attrezzi vari quali scale pertiche o falci i tetti di paglia simili a berretti di pelo calcati sugli occhi scendono fino a coprire circa un terzo delle basse finestre i cui grossi vetri convessi sono guarniti da un nodo al centro come quello dei fondi di bottiglia contro i muri di gesso attraversati in diagonale da travicelli neri cercano sostegno talvolta stenti alberelli di pero e le porte al pian terreno sono munite di un cancelletto girevole utile per tenere fuori i pulcini che vengono a beccare le briciole di pane ben imbevute di sidro a mano a mano che si procede i cortili si fanno più stretti le case più vicine le une alle altre le siepi scompaiono un fascio di felci dondola sotto una finestra appeso in cima a un manico di scopa qui c'è la fucina di un maniscalco più avanti la bottega di un carradore e dinanzi a essa due o tre carretti nuovi ingombrano la strada poi attraverso un cancello appare una casa bianca al di là di un praticello rotondo in mezzo al quale un amorino tiene un dito sulle labbra in fondo a una scalinata si trovano due vasi di ghisa e sulla porta brilla un'insegna è la casa del notaio la più bella del paese la chiesa si trova all'altro lato della strada venti passi più avanti proprio all'ingresso della piazza il piccolo cimitero che la circonda chiuso da un muretto basso è così zeppo di tombe che le vecchie lapidi ormai a livello del terreno formano un lastricato continuo interrotto soltanto dai riquadri verdi disegnati dall'erba cresciuta spontaneamente la chiesa è stata ricostruita negli ultimi anni del regno di carlo decimo la volta in legno comincia a imputridire in alto e presenta qua e là buchi neri nel colore azzurro che la riveste sopra il portale dove dovrebbe trovarsi l'organo c'è una galleria per gli uomini alla quale si accede per mezzo di una scala a chiocciola che risuona sotto gli zoccoli la luce entra da grandi vetrate a lastra unica e illumina con i suoi raggi obliqui i banchi disposti perpendicolarmente alle pareti qualcuno di essi è reso più confortevole da una stuoia inchiodata vi sopra che reca scritte a grandi lettere queste parole banco del signor tal dei tali più avanti nel punto in cui la navata si restringe sono posti da un lato un confessionale e di fronte dall'altro una statuetta della vergine vestita di raso con un velo di tulle disseminato di stelle d'argento sul capo e dalle gote così colorite da somigliare a quelle di un idolo delle isole sandwich sopra l'altar maggiore in fondo alla navata una copia della sacra famiglia dono del ministro degli interni fra quattro candelieri chiude la prospettiva gli stalli del coro in legno da vete sono rimasti grezzi non verniciati il mercato e cioè una tettoia di tegole sostenuta da una ventina di pali occupa da solo circa la metà della piazza principale di yonville il municipio costruito sul disegno di un architetto di parigi è una specie di tempio greco situato su un angolo di fianco alla casa del farmacista ostenta al pian terreno tre colonne ioniche e al primo piano una galleria a tutto sesto mentre il timpano che la sovrasta è occupato da un gallo francese il quale appoggia una zampa sulla costituzione e con l'altra regge la bilancia della giustizia ma ciò che attira di più lo sguardo è la farmacia del signor omè di fronte all'albergo del leon d'oro la sera soprattutto quando la lampada è accesa e i boccali rossi e verdi che adornano la vetrina allungano lontano sul terreno i loro riflessi colorati si intravede come in mezzo a fuochi d'artificio la sagoma del farmacista appoggiato al banco la sua casa è coperta da cima a fondo da scritte in corsivo in tondo e in stampatello acqua di vichy di sels e di barege sciroppi depurativi rimedio raspail fecola araba pastiglie d'arsè pasta regno bende sali da bagno cioccolatini purgativi eccetera e l'insegna che occupa l'intera larghezza della bottega reca la scritta in lettere d'oro farmacia omè poi in fondo alla bottega dietro le grandi bilance fissate al banco la parola laboratorio si sciorina sopra una porta a vetri che a metà altezza ripete ancora una volta omè in lettere d'oro su fondo nero non rimane altro da vedere a yonville la via l'unica lunga non più di un tiro di schioppo e fiancheggiata da qualche bottega termina bruscamente alla curva della strada maestra lasciandola sulla destra e proseguendo ai piedi del colle san jean ben presto si giunge al cimitero al tempo dell'epidemia di colera per ingrandirlo fu abbattuto un tratto di muro e furono acquistati tre acri dei terreni confinanti ma la parte nuova è quasi del tutto inutilizzata e le tombe continuano come sempre ad ammucchiarsi vicino all'ingresso il guardiano che nello stesso tempo fa il becchino e il sagrestano ricavando così un duplice utile dai defunti della parrocchia ha approfittato del terreno libero per coltivarci le patate di anno in anno però il suo campicello si restringe e quando sopravviene un'epidemia egli non sa più se rallegrarsi per i decessi o affliggersi per le sepolture si nutre di cadaveri l'estibudoa gli disse un giorno il curato queste severe parole lo fecero riflettere e lo trattennero per qualche tempo ma ancora oggi il guardiano continua a coltivare i tuberi e sostiene perfino con impudenza che nascono spontaneamente dopo gli avvenimenti che narreremo in realtà nulla è cambiato a yonville la bandiera tricolore di latta gira sempre in cima al campanile della chiesa le banderuole di tela stampata della bottega del merciaio si agitano ancora nel vento i feti del farmacista simili a fagotti di esca bianca per il fuoco imputridiscono sempre più nel loro alcol melmuso e sul portone dell'albergo il vecchio leone d'oro stinto dalle piogge continua a mostrare ai passanti la criniera da cam barbone la sera dell'arrivo dei signori bovary a yonville la vedova le françoise la padrona di questo albergo era tanto indaffarata da sudare a goccioloni mentre rimescolava le casseruole l'indomani era giorno di mercato per il borgo bisognava tagliare in anticipo le carni preparare i polli fare la minestra e il caffè in più doveva pensare ai pasti dei pensionanti del medico di sua moglie e della loro domestica la sala del biliardo sonava di risate nella saletta tre mugnai chiamavano per far portare dell'acquavite il fuoco fiammeggiava le braci scoppiettavano e sulla lunga tavola della cucina fra i quarti di montone crudo si elevavano pile di piatti che tremolavano alle scosse del tagliere sul quale venivano tritati gli spinaci nel pollaio si sentivano gridare i polli che la serva inseguiva per tirar loro il collo un uomo in pantofole di pelle verde lievemente butterato dal vaiolo e con in capo una berretta di velluto dalla nappina d'oro si scaldava la schiena contro il caminetto il suo viso esprimeva la più assoluta soddisfazione ed egli aveva l'aria di vivere placido e tranquillo come il cardellino nella gabbia appesa sopra la sua testa era il farmacista artemis gridava la padrona dell'albergo spezza un po di fascine riempi le bottiglie servi l'acquavite sbrigati sapessi almeno quale desser offrire agli ospiti che stanno aspettando bontà divina i facchini del trasloco ricominciano la sarabanda nel biliardo hanno lasciato il carro sotto il portone se arriva la rondine è capace di sfondarlo chiama polit perché lo porti nella rimessa da questa mattina avranno fatto una quindicina di partite signor omè e bevuto otto bottiglie di sidro finiranno per strapparmi il feltro continuava guardandoli di lontano con in mano la schiumarola oh non sarebbe poi un gran male rispose il signor omè ne comprerebbe un altro un altro biliardo esclamò la vedova dal momento che quello non regge più signora le francois le ripeto lei sbaglia sbaglia di grosso e poi gli appassionati adesso vogliono buche strette e stecche pesanti non si gioca più alle boccette è tutto cambiato bisogna essere all'altezza dei tempi guardite li è piuttosto lo stessa arrossì di dispetto il farmacista soggiunse lei ha un bel dire il suo biliardo è più bello di questo e se a qualcuno venisse l'idea di organizzare una gara patriotica a favore della polonia o degli alliuvenati di lione non sono certo i pitocchi come lui a farci paura lo interruppe lo stessa alzando le larghe spalle andiamo andiamo signor omè finché ci sarà il leon d'oro la gente ci verrà a noi non mancano i mezzi e invece una di queste mattine potrebbe capitarci di vedere il caffè francese chiuso e con un bello affisso sulle imposte cambiare il mio biliardo continuò fra se e se mi fa così comodo per piegare il bucato e al tempo della caccia ci ho potuto mettere a dormire fino a sei persone ma quel posapiano di hiver che non arriva l'aspettava per la cena dei suoi ospiti domandò il farmacista aspettarlo si figuri il signor binet alle sei in punto lo vedrà entrare un pignolo uguale a lui non esiste sulla faccia della terra bisogna che abbia sempre il suo solito posto nella saletta si farebbe ammazzare piuttosto che mangiare altrove e quanto è schifiltoso e com'è difficile per il sidro non è certo come il signor leon quello arriva a qualunque ora alle sette le sette e mezzo e non si accorge nemmeno di quel che mangia che bravo giovane mai una parola più forte di un'altra c'è una bella differenza creda pure fra chi ha ricevuto un'educazione e un ex carabiniere divenuto esattore delle tasse sonarono le sei mentre binet entrava indossava una finanziera blu che gli cadeva diritta intorno al corpo magro il berretto di cuoio con i copriorecchie annodati in cima alla testa da un cordoncino lasciava vedere sotto la visiera rialzata una fronte calva sulla quale l'elmo aveva impresso il suo segno portava un panciotto di panno nero un colletto rigido un paio di pantaloni grigi e in qualsiasi stagione scarpe ben lucidate ma deformate da due rigonfiamenti simmetrici dovuti agli alluci sporgenti non un pelo rompeva la perfetta armonia della barba bionda collare che gli contornava la macella incorniciandogli il viso lungo e scialbo dagli occhi piccoli e dal naso aquilino abile in tutti i giochi di carte era anche un bravo cacciatore e aveva una bella calligrafia possedeva un torneo con il quale si divertiva a fabbricare portatovaglioli ne aveva la casa piena e li conservava con la gelosia di un artista e l'egoismo di un borghese si diresse verso la saletta fu necessario prima farne uscire i tre mugnai e mentre veniva apparecchiata la tavola binet rimase per conto suo in silenzio vicino alla stufa poi come sempre chiuse la porta e si tolse il berretto non ci saranno i convenevoli a consumargli la lingua disse il farmacista appena si trovò solo con lo stessa oh non è mai più loquace di così rispose lei la settimana scorsa sono passati di qui due commessi viaggiatori in stoffe due giovani pieni di spirito che la sera raccontarono un mucchio di barzellette io piangevo dal gran ridere e lui rimase là come un baccalà senza dire una parola sì disse il farmacista nessuna immaginazione nessuna arguzia nulla di ciò che caratterizza l'uomo di mondo eppure si dice che abbia mezzi obiettò lo stessa mezzi replicò il signor homè lui i mezzi quando riscuote le tasse forse aggiunse in tono più calmo e riprese capisco che un negoziante con estesi rapporti d'affari un giure consulto un medico un farmacista possano essere tanto assorbiti dalle proprie occupazioni da diventare bisbetici e lunatici di tipi di questo genere è piena la storia ma almeno si tratta di gente che pensa a qualcosa per esempio a me quante volte è capitato di cercare la penna sul banco per scrivere un'etichetta e di accorgermi poi che l'avevo sopra l'orecchio la signora Lefrançois andò intanto sulla porta per vedere se la rondine stesse arrivando a un tratto trassalì un uomo vestito di nero entrò di improvviso in cucina era possibile nelle ultime luci del crepuscolo distinguerne il viso rubicondo e la corporatura atletica in che cosa posso servirla signor curato? domandò l'albergatrice tentando di afferrare uno dei candelieri di ottone che si trovavano sul caminetto così bene allineati da sembrare un colonnato e forniti di candele vuol bere qualcosa? un dito di amaro? un bicchiere di vino? il sacerdote rifiutò con molta cortesia era venuto per il parapioggia che aveva dimenticato qualche giorno prima al convegno di Ernemont e dopo aver pregato la signora Lefrançois di farglielo avere al presbiterio in serata uscì per andare in chiesa mentre le campane suonavano l'angelus quando l'eco dei passi sul selciato della piazza si fu spenta il farmacista definì molto sconveniente il modo con il quale si era comportato poco prima il curato il rifiuto di accettare una bibita gli sembrava un'odiosa ipocrisia tutti sanno che i preti sbevazzano di nascosto e cercano di far tornare i tempi delle decime lo stessa prese le difese del curato già ma intanto ne vale quattro come lei l'anno scorso aiutò i nostri uomini a ricoverare il fieno e riusciva a portarne fino a sei balle per volta tanto è forte bravo disse il farmacista allora mandate pure le vostre figlie a confessarsi da quel pezzo di malanno con un simile temperamento se fosse per me se io fossi al governo farei salassare i preti una volta al mese sì signora Lefrançois tutti i mesi un bel salasso nell'interesse della sicurezza pubblica e del buon costume ma stia zitto signor Romè queste sono impietà lei non ha religione io ho una religione rispose il farmacista la mia religione anzi ne ho più di loro e senza tante commedie e tanta ciarlataneria io adoro Dio invece credo in un essere supremo in un creatore quale che sia non ha importanza il quale ci ha messi qua giù per adempiere i nostri doveri di cittadini e di padri di famiglia ma non ho bisogno di andare in una chiesa a baciare piatti d'argento e a ingrassare di tasca mia un branco di buffoni che mangiano meglio di me lo si può onorare benissimo in un bosco in un campo o addirittura contemplando la volta celeste come gli antichi il mio Dio è lo stesso di Socrate di Franklin di Voltaire e di Beranger sono d'accordo con la professione di fede del vicario Savoiardo e i principi immortali dell'89 così io non ammetto un Dio alla buona che passeggia in giardino con il bastone in mano alloggia i suoi amici nel ventre delle balene muore lanciando un grido e risuscita dopo tre giorni cose assurde in se stesse e d'altra parte in contrasto con tutte le leggi della fisica e questo dimostra per inciso che i preti si sono sempre crogiolati in una torpida ignoranza nella quale tentano di far sprofondare insieme con loro tutti i popoli il farmacista a questo punto tacque si guardò intorno sicuro di scorgere un pubblico intorno a sé perché nel suo fervore per un momento aveva creduto di essere in pieno consiglio municipale ma la padrona dell'albergo non l'ascoltava già più tendeva l'orecchio a un rotolio lontano il rumore di una carrozza misto a un strepito di ferri allentati che battevano sul terreno e che si fece distintamente sentire e dopo poco la rondine si fermò davanti al portone era un cassone giallo sostenuto da due grandi ruote che arrivando all'altezza del mantice impedivano ai viaggiatori di vedere la strada e insudiciavano loro le spalle i vetri dei finestrini mobili piccoli e stretti tremavano le lentelaiature quando gli sportelli venivano chiusi ed erano costellati qua e là di schizzi di fango sulla vecchia coltre di polvere che li ricopriva con una tenacia tale che neppure le piogge più violente riuscivano a fare scomparire del tutto tiravano la rondine tre cavalli il primo dei quali attaccato a bilancino e nelle discese il fondo della diligenza toccava il terreno a ogni sovvalzo nella piazza si radunarono alcuni abitanti di Yonville parlavano tutti insieme chiedendo notizie spiegazioni ed esigendo i propri canestri Giver non sapeva più a chi rispondere era lui a sbrigare in città le commissioni per tutto il paese andava nelle botteghe portava rotoli di cuoio per il calzolaio ferri di ogni genere al maniscalco un barile di aringhe per la padrona cappellini per la modista parrucche per il parrucchiere e lungo la via del ritorno distribuiva i pacchetti gettandoli al di sopra dei recinti dei cortili in piedi in serpa e gridando a squarciagola mentre i cavalli continuavano a trottare per loro conto era arrivato in ritardo in seguito a un incidente la cagnolina della signora Bovary era scappata per i campi avevano fischiato un buon quarto d'ora per farla ritornare Hiver era perfino tornato indietro di mezzo miglio sperando di rivederla da un momento all'altro ma poi aveva dovuto rimettersi in cammino Emma aveva pianto si era arrabbiata aveva accusato Charles di quella disgrazia il signor Lerreux negoziante di stoffe che viaggiava con loro sulla diligenza aveva cercato di consolarla citandole un gran numero di casi in cui cani sperdutisi avevano riconosciuto il padrone dopo lunghi anni c'era chi affermava disse che uno di essi fosse tornato da Costantinopoli a Parigi un altro aveva percorso 50 leghe in linea retta e attraversato a nuoto quattro fiumi il suo stesso padre aveva posseduto un can barbone il quale dopo 12 anni di assenza era riapparso facendogli le feste per la strada una sera mentre egli andava a cena fuori di asenza Grazie a tutti.